ok il nome trae un po in inganno ma oltre a fare meravigliosi materassi ci occupiamo anche di tendaggi e di tappezzeria usiamo la nostra attenzione abilità artigianale per aiutarvi a dare dare la casa e l'ufficio con interventi su misura coordiniamo tessuti e soluzioni tecniche per arrivare a dare proprio il risultato che stavate cercando perché non fate un salto che ne parliamo grazie